Oggi voglio segnalarvi un servizio gratuito online davvero eccellente Canva.com È una specie di piccolo Photoshop che consente in modo molto semplice e veloce di creare belle immagini ad esempio per la copertina di Facebook, per un post su Twitter o per un biglietto da visita e molto altro Me l'ha fatto scoprire Anna di tutto su YouTube ed allora lo uso sempre come alternativa rapida a Photoshop Ok, non è Photoshop ha qualche migliaio di funzioni in meno ad esempio non consente il fotoritocco però è gratuito, online e soprattutto molto molto semplice da usare I risultati che si possono ottenere sono davvero fantastici infatti mette a disposizione delle belle grafiche predefinite che consentono di creare molto in fretta immagini davvero belle Andate su Google Images e cercate Canva.com per capire di cosa sto parlando Consiglio a tutti, ma proprio a tutti di andare a provarlo su Canva.com tanto è talmente semplice e veloce che non c'è nemmeno bisogno di spiegare come funzioni Se poi c'è qualcosa che non capite o che non riuscite a fare cliccate in altro su support e troverete tutte le risposte Uniconeo e ancora solo tutto in inglese Se poi invece avete bisogno di un tutorial per capire meglio come funziona basta andare su YouTube e cercare Canva Ora provatelo e ditemi se non è grandioso Grazie mille